Grazie, Presidente. Secondo l'NHCR sono 65 i milioni di persone che in questo momento li stanno muovendo in cerca di una soluzione migliore per la propria vita. 24 migranti al minuto. Soltanto in Italia, e questi sono dati del Ministero dell'Interno, al 30 dicembre sono arrivate 181 mila persone, con un incremento del 18% rispetto allo stesso periodo nel 2015. Di fronte a una situazione di questo tipo, che è inutile chiamarla emergenza o casualità, si parla di un fenomeno duraturo e naturale, quello delle immigrazioni umane, l'unica cosa che ha saputo fare l'Europa, della quale avete avuto anche la presidenza nel semestre europeo, è stato un accordo con la Turchia che ha ottenuto un solo risultato, bloccare la direzione balcanica delle immigrazioni, per portarla sostanzialmente di nuovo nel Mediterraneo e quindi in Italia. Non a caso la rotta balcanica ha diminuito il numero di migranti e la rotta invece mediterranea l'ha aumentato. Quindi sostanzialmente avete fatto un accordo che oltre a essere sbagliato nel merito, nel diritto internazionale e nel diritto umano, perché fatto con un dittatore di fatto, che non rispetta nessun tipo di diritto internazionale, avete anche riportato in Italia e dal Mediterraneo il maggior flusso di migranti. Questo è successo che ha avuto l'Europa, della quale avete fatto anche la presidenza per sei mesi. Allora, per il resto, quello che abbiamo visto è totalmente il nulla, assolutamente il nulla. In quest'Aula, da questo scranno, presi parola il 18 dicembre 2014, quando presentammo la prima di questa inutile serie di emozioni sulla gestione dei flussi migratori, quel giorno il Partito Democratico, insieme a tutti gli altri gruppi parlamentari, approvò la nostra mozione, quella del Movimento 5 Stelle, che parlava di alcune cose ben chiare, parlava di distribuzione dei migranti, di quote, parlava di gestione delle note ministeriali sulla gestione dei centri di raccoglienza, dei CIE, dei CARA, degli SPRAR. Dettavamo una linea che non era né politica né strumentale, ma era risolutiva del problema, quantomeno per le parti che si ha avuto 300 morti in mare che erano stati recentemente a Lampedusa o per la vergogna che avevate di mafia capitale. Sappiamo soltanto, però, che a distanza di due anni io mi sono rialzato oggi a prendere questo microfono e ci stiamo raccontando esattamente le stesse cose, perché nulla avete saputo fare in due anni di governo. E poi ci dite che il problema è la Costituzione. Il problema siete voi e la vostra incapacità, semmai. Allora, io quello che mi chiedo è, siete incapaci soltanto di farvi rispettare o è una questione di incapacità di merito? No, perché le soluzioni, come vi dicevo, sono tutte. Il meccanismo e le ripartizioni, ne avete parlato anche voi in sede europea, siete usciti dagli uffici a colloquio con la Merkel dicendo che avevate ottenuto la risposta. La risposta a cosa? Alle nostre problematiche sicuramente no, tant'è che le ripartizioni sono fallite totalmente, su tutta la linea non abbiamo saputo rimandare nessun migrante negli altri 27 Paesi dell'Unione Europea. Non siete stati nemmeno in grado di portare avanti alcune tematiche, tipo il superamento dell'Accordo di Dublino, neanche durante il semestre europeo. Tra l'altro fa parte proprio della vostra dialettica, dei vostri argomenti quando normalmente ne parlate a favore di telecamera. La cosa disgustosa, però, lasciatemi dire, di questo dibattito, anche di oggi, è che continuate con la strumentalizzazione politica, da una parte e dall'altra. Io ho la mia sensazione che senza un argomento identitario come l'immigrazione alcuni partiti non esisterebbero. Continuate con la retorica del dobbiamo accogliere tutti, ma continuate anche con la retorica del dobbiamo investire sui CIE, Maroni ha fatto bene in passato, ma scusatemi, ma il reato di grandestinità, la legge Bossifini, ma di chi sono se non vostre? Le avete fatte voi? E quando eravate al Governo non parlatemi del fatto che si sono ridotti i flussi migratori, perché l'unico modo per cui li avete ridotti è l'accordo con Gheddafi che li metteva nei lager nel deserto e quella non è certamente una soluzione possibile. Diciamo un'altra cosa. È giusto parlare di accordi multilaterali, l'abbiamo fatto più volte anche noi. Gli accordi multilaterali sono l'unico modo che abbiamo per rimandare i non aventi diritto a casa loro. Perché non li avete fatti ancora? Perché non avete peso politico, accettatelo, non siete in grado di stare nei tavoli giusti a contare qualcosa e non siete in grado, perché l'unica che conta in questo momento è la Merkel, alla quale avete dato tutta la vostra disponibilità e che poi ci risponde con un taglio di 3,4 miliardi sulla legge di stabilità che ci porterà a dover tagliare ancora sui diritti dei cittadini italiani. Questa è la vostra politica. Ora, sentiamo parlare di lavori socialmente utili. I lavori socialmente utili dovreste farli voi ogni tanto, perché i lavori socialmente utili dati ai migranti significano due cose. Uno, abbassare il costo del lavoro e portare ancora di più in crisi la nostra economia. Due, significa che avete accettato consapevolmente o inconsapevolmente il principio per il quale un migrante debba stare 18 mesi in attesa di sapere se ha diritto o se non ne ha. Perché se il migrante avesse un periodo di due mesi, come richiede la Commissione europea, in quei due mesi sarebbero minimo necessari per fargli imparare una lingua, per avviarli in un percorso di istratazione al lavoro, per cercare di dargli un'identità italiana. Invece voi che volete fare, metterli a lavorare. Quindi avete capito perfettamente che con la vostra gestione li terremo sempre a non fare nulla per 18 mesi. Questo è fallimentare all'origine del concetto stesso. Noi abbiamo fatto una proposta molto chiara da due anni a questa parte. Assumere 15.000 giovani, formati gratuitamente grazie all'UNHCR, alla Croce Rosa e agli istituti specializzati, che possano incrementare le commissioni territoriali e portare il tempo di accoglienza, ovvero di richiesta di asilo dai 18 mesi attuali ai due mesi che dovrebbe essere secondo l'indicazione della Commissione europea. Perché non lo fate? Perché l'unica cosa che ne abbiamo chiaro da queste vostre risposte di oggi, nonché dalle parole di Minniti in questi ultimi giorni in giro per il mondo, è soltanto una, che avete un solo interesse, riattivare la vostra mangiatoia legata ai CIE, ai CARA e all'accoglienza, che ci ha già descritto mafia capitale e dove le vostre cooperative, quelle di sinistra come quelle di destra, e mi vorrei avere qui Alfano per parlargli del CARA di Mineo, avete mangiato per anni e vi hanno anche beccato con le mani nel sacco. Questo è l'unico interesse che avete. Per non parlare del fallimento totale delle politiche estere. Io ho avuto ieri Alfano in Commissione da brividi, Alfano da brividi, Ministro degli Esteri, che tra l'altro domani facciamo anche un applauso perché andrà a ricordare Craxi in Tunisia, siamo molto felici di questo, tra l'altro è in linea perfettamente con la sua idea di politica. Alfano che ci è venuto ancora a parlare di soluzioni sulla Libia, sulla Siria, di questioni che non conosce e non conosce o meglio, non può conoscere perché non ha le mani libere di agire. In Libia prima baciavate le mani a Gheddafi, dopodiché le avete bombardati. Ora volete essere i mediatori per una risoluzione del conflitto utilizzando Alfano e Rage, l'uomo che è riconosciuto dall'ONU, ma da nessun altro in Libia. Volete davvero risolvere la questione libica? Abbiate il coraggio di prendere in mano la questione mettendo al tavolo gli attori realmente riconosciuti in Libia, che non sono certamente quelli dell'ONU, non sono certamente quegli inviati che mandiamo a 200.000 euro al mese a non fare nulla, ma sono ad esempio gli altri attori politici, le tribù che in Libia oggi si dividono veramente il territorio e che controllano i pozzi di petrolio. Toglietevi una volta tanto dagli occhi l'interesse soltanto economico e risolviamo davvero uno dei problemi che ha causato la grande fetta dei flussi migratori che abbiamo, Libia e Siria. Allora andiamo un attimo alle proposte, le abbiamo fatte anche oggi sapendo che tanto le prenderete, magari ce le approverete anche, ma per voi sono irrealizzabili. Abbiamo parlato chiaramente di superare Dublino 3, un accordo folle che avete siglato tutti, ve lo ribadisco anche oggi, perché il primo è stato siglato quando c'era ancora Andreotti votato dall'ADC, il secondo l'avete firmato sotto il governo Berlusconi in alleanza con la Lega Nord e il terzo l'avete firmato come Partito Democratico durante il mandato di Letta e oggi parlate di superarlo, l'avete firmato voi, quantomeno è schizofrenia questa. Istituire un'agenzia internazionale che possa fare le richieste per gestire le richieste dei richiedenti asilo direttamente nei territori di partenza e transito laddove possibile. Un monitoraggio centrale delle strutture di accoglienza bisogna puntare necessariamente all'accoglienza diffusa, ovvero smetterla con questi grandi centri come Mineo, 4.000 richiedenti a fronte di 5.000 abitanti, smetterla con queste situazioni ingestibili e puntare a piccola gestione diffusa sul territorio come quella degli Sprar, l'unico successo che in Italia davvero si riesce ad avere. Ma bisogna controllarli altrimenti saranno sempre la stessa mangiatoia in mano ai pochi privati con i quali fate grandi affari. Abbandonare la logica dei CIE, ma io veramente dico cosa vi succede quando vi sedete su quegli scranni? Perché Miniti nel 2009 parlava di CIE come prigioni e un abominio. Ora i CIE sono la sua soluzione, o l'avete rapito o l'hanno rapito gli alieni. Poi abbiamo parlato chiaramente della gestione del lavoro in cambio dell'accoglienza, siete semplicemente fuori di testa, il diritto non può essere barattabile, è come dire vai a scuola gratuitamente ma a cambio del fatto che i tuoi genitori vadano a lavorare con i lavori socialmente utili. Un diritto è un diritto, non è acquisibile, è contrattabile. In questi mesi avete fallito tutto, vi hanno bocciato qualsiasi cosa, dalla riforma costituzionale della riforma Madia, passando per le banche popolari. Non siete in grado, è inutile girarci intorno. Per questo riteniamo questa giornata di votazioni sulle emozioni totalmente inutile. L'abbiamo fatta nel 2014, l'abbiamo fatta nel 2015 e oggi siete di nuovo qua sperando di pulirvi la coscienza. Qualunque cosa sarà approvata non sarete in grado di realizzarla. Per questo noi ci asterremo su tutte le proposte presentate oggi, perché la strada ve l'abbiamo già tracciata due anni fa, quando eravamo inesperti e oggi ne parlate anche voi senza riuscire a realizzarlo. Non servono altre chiacchiere, serve solo capacità politica e voi non l'avete.